Lo miracolo di Santa Lucia, mirissime nanna quando era nica, ora ti conto una storia antica, un capo gli ammi mi fici a settare e a racciaraccio si misa a contare. Ci fu una volta a Siracusa, una carestia troppo dannosa, pane uncinnera e tante famiglie non rinascinano a sfamare i figli, ma pure un mensa la disperazione non ci mancava mai la devozione e addumannavano a Santa Lucia chi li salvasse di la carestia. Un bello giorno arriva di lontano, rincia lo porto siracusano, una nave carica di formento, a liberale ridù tormento, per i cristiani la gioia fu tanta che griravano viva la Santa, per chi fu grazie alla santa cessione che aveva arrivato da benedizione. Tutti accorriano alla marina, ma era formento un'era farina, e quello pitito che non faceva bintare non c'era tempo di rire a mangiare, pi mettisi subito in salvamento aviano a cocire lo stesso formento, e pi la forma accoccia cavia a cominciare a chiamare la cucchia. La buona nuova arriva lontana e pi sta martire siracusana, fu a questi grandi la venerazione che ci fai nascere in una tradizione. Passa lo tempo e la carestia, rista l'usanza pi Santa Lucia, rinfare i pane ed un coci di pasta e di mangiare la cucchia e basta. Ma lo sappiamo, ci vuole picca e l'usanza di scarsa diventa ricca, a ognuno ci vini la bella pinzata a ripripararla più elaborata, che ci mettia lo biancomanciare e che lo vino cotto ci vuole immiscare, che ci vuolia lo meli rifico e tante altre cose che manco ti rico. Ma io volessi sapere, alla fine non rispuntarono i bellarancini, e ma domani di quali mani nascero le panelle e lo risattiano, e namenti mia nanna si sforniciava, a mia luce l'uomo come mormoriava, e mi ricordo che ci avessi detto, no no, zittemone, cacciavo i petito.